buonasera si buonasera brava gente buonasera è un momento di grazia che viviamo insieme è una sorpresa così sono le cose che il signore ci ci ispira ecco stiamo aspettando per la gente che la gente entri in questo momento la gente riceve il segnale e inizia ad entrare eccoci qui siamo con papa francesco siamo con papa francesco e gli ho detto che voi ogni sera pregate per lui che la brava gente prega per lui e allora il regalo di oggi che sono oltre tre anni che stiamo insieme ho chiesto al papa la sua benedizione e un suo pensiero su cosa significa nutrirci della parola di dio ogni giorno buonasera brava gente è vero che voi siete bravi così mi ha detto il padre grazie grazie il vostro lavoro e anche nel voler nutrirvi con l'acqua che la parola di dio se a noi manca l'acqua la cosa non funziona la parola di dio è come l'acqua è quello che la vita che è sempre con noi l'acqua che ci fa crescere avanti con la parola di dio non lasciarla è continuata a essere brava gente per santo la sua benedizione e benedica di annipotente il padre del figlio e lo spirito santo amen amen andiamo in pace brava gente e pregate per il papa e per la chiesa quanti sono quella che sei?